Andare a boostare sensibilmente 30 Hz mi sembrerebbe un'assurdità, ma è una roba che nella musica moderna fa tanto. Mi piacerebbe avere in accompagnamento a quel kick, cosa che avremmo dovuto in qualche modo fare in produzione ma non abbiamo fatto, una spinta quindi di avere delle basse, delle bassissime, molto presenti. Non saturazione in questo caso mi viene più utile un exciter perché mi va proprio a generare qualcosa che non c'è. Faccio sentire, quando la disattivo anche il kick sembra più scarico, sentite? Attiviamo.